Avvocato Bana, quali fattori influenzano i clienti maggiormente nella scelta del penalista secondo lei? Secondo me la scelta dei clienti verso uno studio professionale che fa diritto penale dell'economia, quindi a 360 gradi sicuramente la prontezza di una risposta, la collaborazione anche del team che partecipa a un determinato lavoro su un cliente, anche la preparazione che deve essere sempre costante, aggiornata e quindi una partecipazione totale direi, quindi non solo il singolo avvocato ma anche il team che lavora con l'avvocato essere pronto su qualsiasi aspetto, anche da un punto di vista internazionale, quindi anche in cliente internazionale che chiede l'aiuto di un avvocato penalista, quindi sapere anche le lingue e quindi essere al passo con i tempi sicuramente, questo è l'aspetto più importante. Grazie avvocato.